Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4 della Carly Legacy. Iniziamo subitissimo nel farvi vedere il rinnovo di Jessica, ma soltanto appunto nel cast. Poi noi continuiamo a giocare con i cari Robinson, però ci andremo da loro, ma non oggi. Allora, intanto ecco qui Jessica, le ho messo questi capelli con le mollettine gialle, è carinissima. E ho visto che come aspirazione random, perché se vi ricordate le ho fatto spegnere le cannelline, ma non l'ho comandata io, non la gestivo. Prodigio artistico e come tratto intollerante all'attosio, che io ancora non ho mai messo a nessun sim. Però mi piace il fatto che lei è una creativa. Questa cosa qui mi piace, in effetti è anche tanto che non ho un sim che dipinge. Quindi magari la prossima volta le metterò io un tratto inerente alla creatività. Mi piace, mi piace. Allora, questo è il suo abito quotidiano. Il formale, lo sportivo, da notte, da festa, costume da bagno, da caldo, da freddo per quando è fuori. Io amo questo giacchettino. E il secondo è il maione. Ok, direi di andare dai nostri invece cari Sebastian e Primrose. Ed eccoci qui. Sono le 7.30 del mattino. Volevo farvi vedere che poi alla fine, quando ci siamo lasciati, che i loro tre hanno intagliato le zucche di colore arancione, ne ho fatte altre tre di colore arancione pallido. E queste tra due giorni, o poco più, comunque marciranno e poi butteremo. Però almeno abbiamo decorato quest'angolino di casa. Comunque, questo è il secondo giorno di scuola di Peter. Allora, Sebastian intanto è qui, che sta prendendo un regalino dagli uccellini. Che ogni tanto, come sempre, controllo. E che ti hanno dato, però? Non ci sa cosa gli hanno dato. Vabbè. Comunque, nel frattempo, nemmeno giocavo da sola, gli ho fatto iniziare dei progetti a punta croce. Non sono terminati, proprio perché così, se per caso mi trovo in giro o seguo i Primrose nella critica veterinaria, posso continuarli a farli rifare. E quindi, tipo, questo qui è il telaio con mirtili e lamponi, questo qui è quello del padig, dello Yorkshire, i funghi, il lama, il coniglio e la zucca. Vabbè. Allora, lui continuo un attimo a fare queste cose qui fuori. Spargi anche il mangime intorno a te, il giardino è pulito, qua devi pulire, poi dovremo pensare a Clarabella. Ho vestito, finalmente, Margherita, con i vestiti in rosa, e Whiston questa notte è invecchiato. Eccolo qui tutto bianco, Whiston, guardate le orecchie. Buongiorno, Basilio. E questo. Poi, volevo farvi vedere che ho posizionato le foto del compleanno di Peter. Qui, al posto di quella di Daisy e Marlon con una Primrose Bebe che ho messo sul caminetto, ho messo proprio il ricordo del compleanno di Peter, perché adesso ci deve essere lo spazio per le loro foto di famiglia. Infatti, man mano, le altre poi le sposterò se mi serve spazio, no? Però, intanto, ho messo questa e ho messo Primrose davanti alla sua primissima lattuga abnorme. E Peter è nella sua camera, sta scrivendo la sua prima... Anzi no, sta scendendo giù. Sì, sta scendendo giù a tavola. Sta scrivendo comunque la sua prima pagina del diario. Accendi questa stanza. E qui sul letto ho messo quella che è invece la sua foto. Bellissima. Perché giustamente ieri è stato il suo primo giorno di scuola e quindi sta scrivendo tutte le sue cose, visto che non ha fatto in tempo ieri a scriverle. La mamma gli ha preparato lo yogurt e il latte al cioccolato. Quindi bevi, poi vai a scuola. Lui è anche un po' teso, veramente. Infatti, prima di proprio farlo andare via, gli faccio fare per bene colazione. E si guarderà un po' il canale per i bambini. Non fa niente se oggi fa ritardo, ma è veramente teso. Ok, poi abbiamo raccolto tre uova normali, va bene. Quindi mettiamola in frigo. Per quanto riguarda Primo Rose, ragazzi miei, ci sono quasi quasi riuscita. Ovvero l'aspirazione. Guardate qui, ne manca uno. Infatti, aspettavo di registrare in modo da vedere questa cosa insieme. Quindi, la vesto, fa freddo, oggi c'è un vento fortissimo. Quindi ti metti così, poi tanto Peter lì finisce di fare le sue cose, vai fuori e volevo chiamare, se non mi sbaglio, Oreo. Con lui non ho provato amore. E finalmente terminiamo questa aspirazione che poi è quella principale per quanto riguarda la seconda generazione. Ah, visto che sei qui fuori, consegna questo maglione e esponi anche questo e questo qui. Ok, buongiorno Oreo, eccoci qui. Accarezza, loda e facciamo... Diamogli un dolcetto. Ok, Sebastian, tu stai buttando i rifiuti. Che altro potresti fare? Qui non c'è niente da fare. Siamo buoni amici. Un attimo perché voglio, a questo punto, chiamare da me, da me, Clara Bella. Così io vado avanti con queste cose e ci possiamo allontanare. Infatti, guarda qui, tutta sporca. Quindi pulisci Clara Bella e socializza. Socializza, ricopi Clara Bella d'amore. Prova amore. Speriamo che è lui quello che mi manca. Vai. Sì, sì ragazzi, ci sono riuscita. Che bello. Peter, eh sì, ci hai fatto tardissimo. Non rispondere al telefono, però muoviti. Allora, ci siamo riusciti. Primo Rose ha appena realizzato il sogno di condividere affetto a profusione con i suoi amici pelosi. Tratto guadagnato sussurratrice di animali. Per Primo Rose è più facile addestrare, punire e sviluppare una relazione con tutti gli animali. Oh, che meraviglia. Possiamo mandarlo a casa adesso? Chiamata le braccia, conversa. No, vabbè, lascialo qui. Adesso posso finalmente concentrarmi sulla seconda aspirazione che in realtà questa qui è facoltativa ragazzi. Però guardate, sono arrivata all'ultimo mattoncino e voglio farlo. E poi, cos'altro ci resta? Solamente di arrivare a livello 10 in veterinaria. Non è obbligatorio, anche in questo caso, raggiungere le 5 stelline della clinica. Io non l'ho scritto nelle regole, però per me, se ci arrivo, è una grande soddisfazione. Però ci mancano soltanto, cioè, in realtà ci manca soltanto livello 10 di veterinaria. Poi, questa aspirazione qui è facoltativa, però, ecco, io mi tengo questi due punti da terminare. Perfetto. Allora, tu stai bene? Magari mangia ti lo yogurt. Ok, così. Volevo andare un attimo in paese con Sebastian. Lui sta bene. Per vedere le altre commissioni. Ok, vai. Vai a scuola. Non ti sei divertito, hai fatto un po' tardi oggi, vabbè, però sei felice. Almeno non sei più teso. Vai, Peter, vai, corri. Perfetto. Mi raccomando, fai bravo. Sì, mamma. Anzi, oggi volevo fargli stringere un po' di amicizie, in modo da iniziare a fargli avere un po' di amici. Vediamo chi incontra a scuola. Poi, sparecchiamo e andiamoci nel paese. Tanto lei, appunto, continuerà a fare i suoi maglioni. Deve completare altri tre articoli di qualità leggendaria. E quindi, il primo Eroso fa queste cose qui e con Sebastian volevo fare delle commissioni al lavoro. Mi avete chiesto di ritornare in clinica veterinaria e mi fa tantissimo piacere quando me lo dite, perché vuol dire che non vi annoia a vedere, ecco, in questo caso, Primo Eroso nemmentre lavora. Quindi, mi fa tanto piacere. Ma stavo pensando di andarci domani, che è venerdì nel gioco, intendo, perché oggi volevo dedicarla metà puntata a Peter, perché se per caso mi fa amicizia a scuola, mi piacerebbe portarlo al parco a giocare, visto che lui gli serve anche per l'aspirazione, fare finalmente la foto con la cuginetta e, insomma, fare queste cose qui con Peter, in modo che il venerdì ci dedichiamo completamente alla clinica veterinaria. Tanto, ragazzi, loro sono ancora giovani adulti, abbiamo ancora tutta l'età adulta e tutta l'età anziana per poter arrivare a livello 5 della clinica. E siamo già quasi a tre stelline. Ecco perché comunque me la prendo comoda, tra virgolette. Ok, Sebastian, vestiti. Fa sempre freddo, sì. Mettiti il cappottino. Ti ho fatto tutto e andiamo. Ed eccoci qui. Oh, c'è anche Teo. Quindi Pimeroso farà due chiacchiere con il fratello. Dai consigli familiari. Menziona un momento infantile imbarazzante. Mentre, vediamo un po'. Anzi, vediamo un po' Sara. Non abbiamo ancora visto le commissioni di Sara. perché, ragazzi, io ad Agatha in mente giocavo da sola l'ho chiamata per vedere se aveva altre commissioni da fare e come il sindaco è uscito scritto che al momento Agatha non ha da dirci nulla. Non ha da farci sbrigare nessuna commissione. E quindi, vabbè, nel frattempo, in effetti, Sara non l'avevamo mai vista. Allora, cioè, vabbè, il famoso pacco non fa niente. Chi ha fame, io sì. E chi mi aiuterà? Proprio tu. Scusa, non volevo esagerare, ma vorrei un aiutino. Saresti così gentile da andare a prendermi qualcosa da mangiare o da sgranocchiare? Ah, cioè, lei è in un bar, chiede a noi. Come premio ci dà un assortimento di ingredienti, fertilizzante e, se abbiamo fortuna, un pasto appena preparato. E poi, questo mi piace tantissimo, bevanda simbolo. Il mio pub ha riscosso un certo successo, ma sono sempre in cerca della novità del momento. e credo di aver individuato una nuova ed entusiasmante bevanda che potremmo proporre qui e solo qui. Ma la gestione del pub mi porta via molto tempo e potrebbe farmi comodo una mano. Che ne pensi? Ti andrebbe di contribuire con qualche tua magia mixologica? Premio, ricetta di una nuova bevanda, ingredienti da cucina e un pasto appena preparato. Vai con questi due. Allora, dobbiamo consegnare quattro mirtilli selvatici al sim. E anche qui, mirtillo selvatico, lampone, ciocco bacca e poi ordinare e bere un assaggio di succo effervescente di bacche di begli. Avverto un leggero lancolino che lei desidera i mirtilli. Se vogliamo che il pub acquisisca visibilità, dobbiamo dare risalto alle specialità di Enford e proporre a tutti qualcosa che non ho mai bevuto. Ho già qualche idea in fermento, ma mi occorre alcuni dei funghi e delle bacche che potrò avere nel bosco. Ok, va bene. Noi, se non mi sbaglio, abbiamo due ciocco bacche, sei mirtilli e i lamponi li hai tu, vero? Però abbiamo sei funghi piccanti verdeggianti. No, non ha altro. Vediamo intanto cosa le posso consegnare amichevole. Ok, mirtilli sì e poi mi serve un lampone. Devo andare a casa a prenderli. Ah, abbiamo anche i funghi affascinanti. Voi devi dire quali funghi vuole. Intanto questo consegnato. Giusto? Sì, 90 simoleon. O ci picchia un spettro divino vorrei che accettassi questa ricompensa e bla bla bla. Va bene. E niente, quello. Questo qui. E allora le chiedo anche l'ultima commissione così me la tolgo. Offri aiuto. Del pacco. Peter ha incontrato Orange a scuola. Va bene. Ho dimenticato di chi è questo pacco. Ok, quindi dobbiamo consegnare intanto ci ho dato la parmigiana, un latte normale. Questo è il pacco che dobbiamo dare. Il fertilizzante crescita veloce, zucchero, uova, farina e carne. Ok, allora iniziamo la ricerca. Iniziamo da qui. Perfetto. Allora, offri il pacco del paese. Vediamo se è di Raul. Raul, hai perso un pacco? No. Hai incontrato Mickey a scuola. Va bene. Poi, offri il pacco del paese. Ma, Primerose, vieni a lavorare a maglia. Vieni qui a fare i magliori. continua con il color sinape. Non è suo. Allora, intanto è andato, vedete, dalla crumble bottom a chiedere se il pacco è suo, ma gli ha risposto ancora tu? I regali mi piacciono e come? Ma devo ribadire che il pacco non è mio. Vabbè. Allora, chiediamo ad Agatha e poi chiediamo, vedo il sindaco qui, se è suo. Brava Primerose, tu lavora a maglia. Oh, si sta avvicinando Raul per chiacchierare, che caro. Lui e la sua voglia di viaggi, non fa altro che parlarne. Senti, aspettavi un pacco? No, non aspettavo un pacco. Non sono nulla del pacco di come parli. Va bene. Non sono nulla del pacco di chi... E di chi è allora? Chi manca l'appello? Loro no. Forse Michael. Michael è subito entrato nel bar per versi un drink. Eccoci qua. Allora, Michael, senti, ma tu aspettavi un pacco per caso? No. Continua a cercare. Ma di chi è il pacco? Oh, mamma. Ah, mi sono ricordata che qui c'è il cespuglio di lamponi. Quindi mettiamo un attimo da parte la ricerca del pacco. Quanti ne hai presi? Otto. Oh, allora, veniamo qua e finiamo con la commissione. Quindi, ecco qua, consegna mirtillo, lampone e ciocco bacca. Peter ha finito a scuola. Va bene. Allora? Tutto ok? Adesso? Il fungo affascinante e verdeggiante. Ce l'ho. Se non mi sbaglio. ecco qua. Sì, sì, sì. Oh, andrà bene per ciò che ho in mente. Vieni al mio bar, ti preparerò qualcosina che chiamo succo effervescente di bacche di bagley. Tra bocca di bacche. Allora, adesso è tutto? Sì, delizioso. Questi funghi sembrano avere un gusto molto intenso. Vieni a trovare il bar e li uscirò per preparare una bevanda semplice con un tocco speciale. La chiamo verdeggiante e verace. E quindi, vai, sediti e ordiniamo. Allora, ordiniamo l'assaggio di succo effervescente di bacche. Ok? Sì, questo. Però avete visto le bevande sono due. Quindi, se non mi ricordo male, lei ci chiederà di assaggiare entrambi questi succhi e poi ci farà scegliere la bevanda che diventerà ufficiale per questo bar. Perché io questa cosa qui l'ho fatta nell'altra partita. Gustoso. Il succo effervescente di bacche di bagley solletica e il palato di Sebastian. Di sicuro aveva la qualità distintiva di una bevanda memorabile. quindi adesso devo ordinare assaggio di verdeggiante e verace. E quale scelgo? Bello, è bello anche come si presenta questo con il calice verde. Ecco, vedete di viazzi in proprietario del pub quale bevanda servire. Vorace di verace secondo Sebastian verdeggiante e verace tocca tutte le corde giuste. È una bevanda che molti sarebbero entusiasti di scoprire in un locale di campagna. Ma allora Sebastian è piaciuto questo? Perché se non mi sbaglio nell'altra partita optai per quell'altro che si chiamava proprio bacche di bagley perché era piaciuto quell'altro. Noi allora optiamo per verdeggiante e verace e scegli il zucco effervescente di bacche e di bagley io avevo scelto questo proprio perché era proprio il nome del paese no? Dammi il zucco di bagley però Sebastian dice che questo ha tutti gli ingredienti giusti per risaltare non solo il posto ma anche il palato. Vai sì mi piace anche come si presenta per il bicchiere tutto Sara devi assolutamente mettere questo nel menu sì vai tranquilla ok una scelta meravigliosa detto tra noi era proprio quella in cui speravo la nuova bevanda simbolo darà di sicuro visibilità al pub della nostra cittadina ok e adesso io non devo fare altro che capire che deve ricevere questo pacco vediamo se è tuo April oh c'è anche Cecilia vediamo un attimo prima Rose era andata in bagno e sta chiacchierando ma era tuo? sì pensate voi erati April appena sbloccato il motivo punta a croce della lattuga ed è solo la punta dell'iceberg va bene poi con Sara in teoria potremmo anche fare altre commissioni vediamo quello che ci chiede per le prossime volte soltanto questo diamo il via alle danze vorrei tanto fingere che stia accadendo qualcosa di immenso e misterioso ma ti dirò la verità credo che sia stata imbastita una pagliacciata no non penso che si tratta che lei sa qualcosa di Agatha per il fatto di Cecilia e Michael ora non ho la pazienza di scoprire di preciso di che si tratta ma sì i miei occhi e le mie orecchie e farei modo che ne valga la pena un cupone per una consiglia alimentare gratuita un fiore a motivo appunto croce e una varietà non comune di latte va bene Sara lascia fare a me riferisci pettegolezzi peccanti al sim proprietario quindi mi vieni da impazzire al pensiero di tutti gli spregevoli pettegolezzi che circolano e non ho remore a dirti che mi sta uscendo il fumo delle orecchie la gran parte della gente del posto conosce la mia faccia ma forse non farà molto caso la tua intercetta le conversazioni di quei pettegoli mettimi a corrente di cosa si dice in giro Sara anche tu ma che pettegoli in questo paese vabbè comunque io direi di lasciare qui Sebastian che state combinando in bagno ecco Primrose eccoli no aspettate io approfitto ascolta di nascosti i pettegolezzi e cavolo il mio cognato vai e speriamo che anche stavolta ci va bene non è riuscito a capire no perché io con te non ho una una grandissima amicizia no non è riuscito e non gliela posso chiedere vabbè non fa niente se basta ti lascio qui con i tuoi nuovi pettegolezzi da ascoltare Primrose va a casa prende Peter e lo porta un po' al parco a giocare con gli amici e iniziamo a conoscere questi primi amichetti ce ne andiamo al parco di Brindleton Bay per rimanere sempre in tema animali queste cose qua e primi amici sono Brianna Miki anche Orange ha conosciuto e ovviamente ci portiamo Jessica e la mamma andiamo oh qui è un po' nuvoloso peccato allora come primissima cosa Primrose viene ad abbracciare affittosamente la nipotina mentre Peter voleva salutare gli amici ma sono scappati mettiti la giacca che fa freddo mettiti così e allora viene a giocarellare con la cuginetta la prende un po' in giro e insomma così ah e poi voglio passare la macchina fotografica in modo che si fanno il selfie ok e allora sei venuta andiamo a giocare ma la smetti oh vedi zia come fa Peter dai fate i buoni su andate dentro a giocare dai fate i bravi che la zia tanto loro sicuramente ecco si metteranno qui Primrose si siede qui e riprenderà il progetto a maglia ma a questo punto li raggiunge anche Sebastian si sederà qui e continuerà a fare un suo progetto ma quanto ben di dio che ci hanno dato oggi in paese dai continua a fare la zucca riprendi telaio medio zucca e state insieme che bello tutte queste foglie a terra peccato che non c'è tanta luce comunque vabbè allora scatta una foto con Jessica ti prego Peter la facciamo almeno di qualità normale che bello dietro la fontana ma sono bellissimi allora luce perfetto e la facciamo ne facciamo due piccole e tre grandi controlliamo un secondo oh bravissimo questa qua scarsa ma bravissimo queste sono quelle grandi e quella piccola anche qualità 7 ok voglio regalare subito una a lei a questa qua abbiamo detto che è piccola quindi che faccio passo un attimo queste qui al padre così mi resta soltanto quella da dare alla cuginetta e non mi imbroglio ok quindi amichevole del regalo ed eccola qua così avrà la foto subito subito e adesso corriamo a giocare insieme come pirati grazie Peter dai siamo usciti bene andiamo subito devi diventare giocoso per farmi questa cosa qui mentre mentre Primrose ha ricevuto il magliore ed è ancora più bello di quanto lasciassi intendere vabbè mi è in mente loro sono seduti qui vedete che lei deve insegnare a un altro sim a lavorare a maglia mi è venuta in mente una cosa nel senso abbiamo visto che Sebastian ha questo obbile punto a croce e gli piace tantissimo cioè si diverte si rilassa e guardate lei infatti dice però sei diventato veramente bravo con il punto a croce eh sì sì l'hai fatto bravo metti in un inventario siediti ma vorresti provare il lavoro a maglia potrebbe piacerti ma non lo so Primrose lavorare a maglia boh punto a croce mi piace di più ma dai ma prova perché come hai provato casualmente e ti piace il punto a croce eh che ne sai magari potrebbe piacerti anche il lavoro a maglia hm quindi là adesso finisce questo maglione e lo convincerà a provare perfetto vai sediti e facciamo questa cosa lui è giocoso bravissimo quindi continua a giocare e quello me l'ha sbloccato quindi siamo al secondo mattoncino deve conseguire livello 5 di abilità motoria e poi esercitarsi nella battuta per 4 ore va bene che state combinando? dai giocate invita a giocare invita a giocare e invita a giocare allora come ve le cavate qui voi due? hm? Sebastia ti piace? ma guarda Primrose sono negato guarda cosa sto combinando stai tranquillo ci vuole un po' di pazienza per queste cose qui sono andato bene? bravo dai un po' meglio stai calmo no Primrose penso che continuerò a fare punta croce ma guarda che non è così male come primo progetto è bello sarà però mi piace più punta croce e niente quindi nel momento in cui lui finirà questo progetto si insomma sarà spuntato anche questo e niente quindi con lei continuerò madonna nemmeno un leggendario mi ha fatto continuerò insomma a fare questa cosa qui che è l'ultima cosa e da come sempre è anche la più difficile dai su che dobbiamo andare a casa si è fatto tardissimo eh Brianna è avanti dei cani lo sappiamo lo sapete che Peter è a casa c'ha un lama e dai Jessica non è che devi dire sempre tutti i fatti miei anche perché abbiamo degli amici un po' sparsi abbiamo Brianna che è qui di Brindleton Bay Miki che viene da Monte Comorebi e Orange da Dazzle Valley quindi cioè siamo un po' sparsi dai avete fatto voi guardate lui c'è con punta a croce si sente proprio ispirato ricamatore esperto vediamo che lavora maglia se esce qualcosa eccolo qui pronti partenza maglieria questo sim sta imparando a udire i sussurri del filo del chiacchiericcio dei feri continuo a lavorare a maglia per affinare la vita però lei intanto è andata a chiamare Peter dicendo Peter vogliamo andare sono fatta le undici e mezza è tardissimo senti amore grazie per avermi insegnato il lavoro il lavoro a maglia però non ti offendere non è per me va bene se basta fa come vuoi senti andiamo a casa che ho troppo sonno si si andiamo anche Jessica sonno quindi scegli il gruppo e torniamocene a casa una volta a casa allora Peter è stanchissimo è vero però lui deve fare i compiti perché non ho giocato con lui quindi vai e fai i compiti e lo faccio aiutare da Sebastian che oh ma già si sono variate queste cose questo no ecco si mangerà un bello stufato di zucca e poi abbiamo il polpettone che magari si mangerà ma Peter ha fame eh sì dai se lo mangia poi Peter il polpettone aiuta a fare i compiti poi hai qualcos'altro da far mangiare qui c'è il latte le uova la carne ecco mettiamo in frigo tutto quello che ci ha dato Sara e basta quindi prima Rose si prende un avanzo e lei si prende un po' di formaggio eh sì perché è tardi non ha tanta fame quindi va bene così non entrate eccolo qui hai prima mangiato poi si è entrato va bene bravissimo poi lui adesso cena mettiti pure il pigiama ti siedi qui vicino al caminetto e intanto la zucca mi crei una copia da muro e mi fai i funghi ok però qui ah no ti piace stare qua vabbè questo è il suo posto qui mi sa non ho spazio per metterci telai peccato perché questi qua tipo zucca funghi mi sarebbe piaciuto metterli in cucina vabbè li mettiamo un po' qua ok Peter ha mangiato il tutto vai aiuta la mamma sparecchi mettetevi il pigiama mettiti così anche tu il pigiama ok bravissimo e adesso la mamma ti porta a letto metti Peter a letto è stata una bellissima giornata anche oggi hanno fatto tante cose vi prometto che nel prossimo episodio andiamo nella clinica ok magari con con lui come sempre tanto questa cosa di pettegolezzi l'abbiamo vista si sa come funziona me la faccio da sola e poi mi metto a cercare altre commissioni da sbrigare sono contentissima perché mi avete scritto nei commenti che anche voi vi divertite tanto a fare le commissioni e che in effetti fanno volare le giornate no? ah incoraggio lavare i piatti bravissimo senti taglia anche un bacio sulla guancia e poi metti a letto un momento madre figlio che in pratica si fanno volare le giornate perché con vita in campagna si hanno davvero tante cose da fare che non è soltanto gli animali e le campagne insieme uno ecco si diverte ad andare in giro per il paese a fare queste cose qui no? e ne ricava sempre qualcosa premi quindi è bello sì a me sta piaciendo tantissimo vita in campagna ok oh non gli hai dato il bacio sulla guancia daglielo qui rimboccare coperte Cody non è il momento di giocare con la palla ok buonanotte perfetto allora lei è stanchissima tanto il maglione l'ha fatto ah deve spedire questo uh 568 perché quella leggendaria ah spedisci quello esponi questo e anche questo e va bene ah tu hai uh si sono avviati questi tre uovo vabbè e poi lei se ne andrà a dormire tu hai fatto il telaio funghi sì qualità normale crea una copia da muro Winston anziano mamma mia come sta passando il tempo eccolo qui perfetto poi qui vicino ci mettiamo o il padding dello Yorkshire oppure continuiamo con gli ingredienti ovvero mirtilli e lamponi ecco magari il cibo lo metto da un'altra parte lo vediamo e vai anche tu a dormire quindi mettiamoli così a dormire e niente ragazzi spero tantissimo che anche questo episodio vi sia piaciuto noi ci rivedremo la prossima volta tanti vi piace e commenti ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.